Nessun allarme per la questione dei rifiuti che l'Aquila conferisce a Sulmona. L'assessore Fabrizio Taranta, da non interpellato ancora, ribadisce che al momento non esiste questo caso e nessuna emergenza e che l'SM non è in affanno. Dal punto di vista tecnico, l'Aquila attualmente sta conferendo rifiuti ancora nella discarica di Sulmona. Il contratto con il Cogese è scaduto il 31 dicembre, ma in virtù di una proroga tecnica, ha spiegato Taranta, si sta conferendo ancora lì e sino a quando non ci sarà il rinnovo, così sarà. Nessun problema quindi al momento, secondo il Comune, anche se la questione sta facendo discutere molto e si è trasformata quasi in uno scontro politico e territoriale. A breve il Sindaco dovrebbe incontrare, da quel che si sa, il collega di Sulmona Di Piero. Il Cogese, come è noto, ha dei problemi interni. Alcune ipotesi, anche se dal Comune non arrivano conferme ufficiali, si starebbero vagliando e starebbero in Abruzzo e Lazio, ma Taranta ci tiene a ribadire che Sulmona rimane la loro prima scelta. Il punto vero, almeno così pare, è che il Gessa deve rinnovare i propri organi, perché il CDA di recente è stato sfiduciato. Una volta fatto questo passaggio, potrà sedersi al tavolo con Comune SM e rinegoziare. Il tema però continua a stare al centro del dibattito e nei giorni scorsi c'è stata pure la presa di posizione del PD, che ha chiesto al Presidente della Prima Commissione Comunale la convocazione urgente per discutere sul caso. E ci sono state anche le dichiarazioni del Sindaco di Chieti nei giorni scorsi, una volta che era uscita Chieti come possibilità, mai confermata però, almeno ai nostri microfoni, dal Comune dell'Aquila. La situazione di stallo, insomma, sarebbe legata alla situazione interna del Cogesa, che peraltro ha chiesto un aumento della tariffa. Ora al Cogesa c'è un amministratore unico, Franco Girardini. I 110 euro a tonnellata pagati dall'Aquila sono considerati pochi per il consorzio. L'Aquila è una differenziata al 39% e vorrebbe rinnovare la convenzione col Cogesa a 117 euro circa. Qualche battibecco sui costi c'è stato anche tra Biondi e Di Piero. Per il Sindaco dell'Aquila il Cogesa si regge con i soldi dell'Aquila. Per quello di Sulmona i prezzi di mercato sarebbero altri. L'assessore Taranta poi, per sgomberare il campo da preoccupazioni eventuali dei cittadini, ha voluto pure ribadire che per gli aquilani non ci sarà un aumento dei costi.